1, 2, 2, 2, 0 Si, tra No, microfono tra In realtà questa... Ah, eccolo, è arrivato Facciamo un applauso Quello con la chitarra Poi c'è l'altro con la chitarra Poi c'è uno al basso Uno alla batteria E' uno al basso E' l'altro che gira E' uno al basso 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 Chiusura e provate per pezzi...